quarta vittoria di fila un'altra volta davanti al nostro pubblico una risposta ancora importante dopo la buona prova di Civitanova altri tre punti messi in sacocia che fanno morale e sono utili per la classifica per risalire dopo Civitanova questa partita non era tanto semplice perché lì dal punto di vista mentale era molto più semplice qui dovevamo confermare la buona prestazione a distanza di due giorni con il viaggio in mezzo con tutti i problemi quindi non era scontata questa partita Taranto è una squadra che ha iniziato a giocare molto meglio loro hanno messo in difficoltà tante squadre come Civitanova come Milano hanno vinto l'ultima quindi non era una partita semplicissima per noi per cui sono molto contento dell'approccio della squadra nonostante un primo set che avevamo sempre due punti sotto dall'inizio siamo riusciti a superarli a 20 21 20 vinto il set il secondo set assolutamente monodirezionale abbiamo vinto a 12 ma subito li abbiamo staccati dall'inizio grazie a una serie di battute di Donovan poi tutti giocavano insomma non c'era tanto spazio per loro il terzo set come è giusto che sia loro hanno reagito dall'inizio poi ci sono stati tre video check di fila tutti al favore loro e lì proprio per un questione anche un po di fortuna o di mancanza della fortuna c'è stato tre punti per loro però vedevo la squadra che nonostante le difficoltà o il fatto che altri battevano facevano delle cose anche molto buone i nostri sono rimasti in campo lucidi e questo mi fa piacere perché questa è la nostra strada dobbiamo lavorare così perso i set però molto decisivi nell'inizio quarto si è ripetuto praticamente lo scenario del secondo e alla fine lo abbiamo chiuso a 15 quindi sono contento per la vittoria contento per la prestazione di giocatori e soprattutto un grande ringraziamento al pubblico. L'hai detto tu la squadra è stata capace di superare anche quei momenti di difficoltà ma sono arrivate anche risposte buone da chi hai messo in campo dopo per esempio Mosca nell'ultimo set è stato decisivo lo stesso Sani comunque in alcuni frangenti quindi comunque da tutti hai avuto delle risposte convincendi. Mosca è entrato ha fatto tre muri subito cambio palla poi ha fatto tre muri fatto buona battuta era giusto in difesa come posizione sempre perfetto tutto il resto percentuali spaventosi di Amin in attacco spaventosi giusti di Mosic e molto buoni di Javoronok abbiamo concesso qualcosa di più in battuta ma questo era soprattutto nel set perso perché lì dovevamo rischiare qualcosa abbiamo sbagliato più battute ma nell'economia del gioco se togliamo il terzo set quando era ormai compromesso siamo giusti anche al livello della battuta. Sono contento per le difese anche del libero perché oggi D'Amico è stato molto lucido a prendere la posizione e ha difeso tante palloni che erano previsti nella preparazione della partita quindi sono contento anche per questo questi sono i buoni segnali che voglio vedere anche Luca ha difeso tanto. È un periodo questo molto intenso tanti impegni ravvicinate infatti fra pochi giorni c'è la Coppa Italia a Trento un traguardo raggiunto col sudore col sacrificio con la forza però la squadra ci arriva comunque nel migliore dei modi dopo queste quattro vittorie di fila. Sì ci fa bene queste quattro vittorie di fila per la morale per il nostro lavoro per il futuro soprattutto per la classifica e per cui mi interessano le prossime partite del campionato saranno molto complicati e molto importanti per noi se riusciamo di fare subito all'inizio dopo l'anno nuovo qualche punto questo cambia tanto.